Conto alla rovescia per la manifestazione contro la riapertura della discarica ex vergine che si svolgerà a Lizzano venerdì 14 luglio alle 19, iniziativa promossa da comitati spontanei di cittadini che ha registrato numerose adesioni nella mondo della politica. Il 13 luglio invece rappresenta anche il termine per la presentazione delle osservazioni riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale chiesta dalla nuova proprietà della discarica alla provincia di Taranto. Anche Mino Boraccino, consigliere del presidente della regione, ha presentato una serie di osservazioni ribadendo la ferma contrarietà alla riapertura. Di presentare le osservazioni tecniche, io le ho fatto con l'aiuto di alcuni ingegneri ambientali, di un chimico, di un paio di avvocati che abbiamo lavorato duramente per più di una settimana studiando tutto il fascicolo che la società Lutum ha depositato alla provincia di Taranto per ottenere l'autorizzazione a quella che loro dicono essere un ampliamento ma che di fatto è una nuova realtà che si metterebbe in campo. Noi siamo contro, abbiamo presentato queste osservazioni, è un'operazione colossale tenendo presente che lì ci sono oltre 2 milioni di tonnellate di disponibilità, ci sono le rimostranze delle popolazioni che ritengono a ragione, visto che anche la Procura in passato ha chiuso e sequestrato quelle discariche, Palombara e Mennole, praticamente di bloccare questo progetto.